Ottimo risultato quello conseguito dalla funzione pubblica CgN all'elezione del comparto dell'igiene ambientale. Un risultato che parla chiaro, afferma il segretario Giuseppe Ascifo, con oltre il 60% dei voti di lista, a proseguire e migliorare il lavoro svolto in questi anni, a rilanciare il bisogno di legalità nel servizio di igiene ambientale e ciò al fine di riconoscere valori, dignità e diritti dei lavoratori. Elezioni che hanno interessato il territorio provinciale con circa 500 lavoratori aventi diritto al voto e con la conferma di un'alta affluenza, vale a dire oltre l'80%. Un dato fondamentale e continuo Ascifo che esalta quindi il valore della democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, contrastando il clima di sfiducia a proposito di rappresentante e partecipazione che ha segnato e continua a segnare questo Paese. E anche in questa tornata elettorale i lavoratori hanno rivendicato i propri spazi di partecipazione e i propri diritti, riconfermando ancora una volta il ruolo fondamentale della CgN nel veicolare i bisogni, elaborando le prospettive necessarie per riemergere dalla crisi, investendo sul lavoro, conclude Ascifo, e su tutti coloro che garantiscono i servizi essenziali nell'igiene ambientale.